Il Centauro di Fossombrone Il Centauro di Fossombrone Il Centauro di Fossombrone Strategie e progetti per il futuro della città Domani il focus sul turismo al Teatro della Fortuna a Fano con gli operatori del settore e l'esperto Joseph Ejark Ecco l'aiutante di Zia Lupa il nuovo film dell'insegnante fanese Stefania Schiaroli che educa i bambini al rispetto e all'amore per gli animali Buonasera da Occhio alla Notizia Come avete sentito dal nostro sommario è stata disposta l'autopsia cadaverica sul corpo di Simone Battaglini 50 anni deceduto ieri nel tragico schianto avvenuto a San Lazzaro di Fossombrone L'uomo autista nella distribuzione di medicinali e capo della sicurezza della discoteca Megà di Senigallia stava rientrando a casa in sella alla sua moto BMW quando per causa in fase di accertamento da parte dei carabinieri si è scontrato frontalmente con un'auto condotta da un anziano tanti in queste ore gli attestati di cordoglio per Simone che lascia la moglie e due figlie minorenni In serata il Consiglio Comunale per l'insediamento della nuova amministrazione è stato rinviato in segno di lutto una proposta formulata dal neosindaco Massimo Berloni è votata all'unanimità il Consiglio si svolgerà mercoledì 27 ottobre alle ore 20 e 30 e adesso passiamo al tema dei vaccini perché da qualche giorno sono partite sia le terze dosi del siero anti-covid sia i vaccini contro l'influenza noi oggi abbiamo fatto chiarezza anche sulla doppia somministrazione con il dirigente medico Augusto Liverani Ha superato il 1.18.800 il numero delle persone che nelle Marche hanno completato il ciclo vaccinale e dallo scorso 16 ottobre sono partite anche per gli over 60 le prenotazioni per la terza dose le modalità sono sempre le stesse mediante il sito dedicato contattando il numero verde o con gli altri sistemi attivati da poste italiane ad esempio tramite portalettere ad oggi a livello regionale ne sono state somministrate oltre 13.000 ma per capirne di più ne abbiamo parlato con il dottor Augusto Liverani direttore del servizio di igiene e sanità pubblica e prevenzione delle malattie infettive dell'Asurare Vassa 1 Dottore esattamente in che cosa consiste la terza dose? Che cos'è? Dunque possiamo dire che la terza dose si distingue in due tipi fondamentali un primo tipo è rappresentato dalla cosiddetta dose addizionale che non è altro che una dose aggiuntiva che serve al completamento del ciclo primario in soggetti immunocompromissi e trapiantati può essere fatta con uno o qualsiasi dei due vaccini RNA Pfizer o Moderna e deve essere somministrata ad una distanza di almeno 28 giorni dal termine del ciclo primario Che cos'è la dose booster? Sì, il secondo tipo di terza dose possiamo dire la dose booster o dose di richiamo è una dose che deve essere somministrata ad almeno 6 mesi di distanza dal termine del ciclo primario e secondo le attuali raccomandazioni deve essere fatta soltanto con il vaccino di tipo Pfizer Il Ministero e la Regione hanno individuato le categorie per le quali è raccomandata la dose booster di richiamo che sono gli ultraottantenni gli ospiti e il personale delle strutture residenziali gli operatori sanitari altri soggetti che per condizioni hanno una particolare fragilità e gli over 60 Oltre all'avvio della terza dose anti-covid è scattata anche la profilassi contro l'influenza stagionale secondo le indicazioni fornite dalla Regione questo vaccino viene somministrato su base volontaria alle persone con età pari o superiore a 65 anni con particolare riferimento agli over 75 Dai primi di novembre poi il vaccino sarà disponibile per tutte le altre categorie i residenti di strutture per anziani e lungodegenza le persone ad alto rischio di complicanze o di ricoveri ospedalieri correlate all'influenza La vaccinazione è consigliata anche per i familiari e i contatti di coloro che sono ad alto rischio di complicanze per gli addetti a servizi pubblici di primario interesse collettivo ed altre categorie di lavoratori compresi gli operatori sanitari E perché è importante vaccinarsi anche contro l'influenza? L'influenza è una patologia che ha un grosso impatto in sanità pubblica e ha dei sintomi molto simili a quelli del covid quindi vaccinarsi contro l'influenza ha un duplice scopo Innanzitutto quello di poter aiuta a discriminare aiutare nella diagnosi differenziale tra le due patologie in secondo luogo evita che in alcuni soggetti particolarmente vulnerabili ci possa essere una esposizione a entrambi i virus con conseguenze cliniche piuttosto importanti Nella stessa seduta può essere somministrato il vaccino anti-covid ma anche quello contro l'influenza ci sono delle controindicazioni? No, il vaccino covid e il vaccino dell'influenza possono essere cosomministrati e possono essere somministrati a qualsiasi distanza l'una dall'altra Nell'ultima giornata nelle Marche sono morte due donne di 65 e 86 anni entrambe residenti nell'Anconetano e con patologie pregresse invece i nuovi positivi sono 116 di cui 40 nella provincia di Pesero e Rubino negli ospedali della regione c'è un ricovero in più in terapia non intensiva rimane invariato invece il numero di pazienti in terapia intensiva e in quella semi-intensiva Lavoratori senza mascherine e personale irregolare in nero in violazione delle norme anticontagio negli ambienti di lavoro sono le irregolarità emerse durante i controlli in provincia di Macerata le verifiche sono state fatte in nove aziende dei settori agricoli manifatturiero e pubblici esercizi nei comuni di Tolentino, Morovalle e Civita Nova Marche tutte risultate inadempienti alle prescrizioni anti-covid per 5 di esse è scattata la chiusura per 5 giorni per impedire la prosecuzione o la reiterazione delle condotte 3 di queste aziende sono state sospese anche per aver impiegato in totale 24 lavoratori in nero i carabinieri hanno contestato 20 violazioni dell'obbligo di Green Pass oltre ad avventori e personale sanzionati anche i titolari delle aziende per non aver provveduto a verificare la certificazione verde Cambiamo argomento, a Mondolfo da gennaio partirà il nuovo servizio di raccolta differenziata porta a porta il comune ha già avviato la campagna di informazione a spiegarci i dettagli e l'assessore all'ambiente Filomena Tiritiello Partirà il primo gennaio 2022 il nuovo eco-progetto che potenzierà la raccolta differenziata e l'igiene urbana su tutto il territorio comunale di Mondolfo verranno introdotti servizi più efficienti e nuove modalità che richiederanno la collaborazione dei cittadini nel cambiare le abitudini di conferimento dei rifiuti domestici Nei prossimi giorni sarà recapitata a tutte le famiglie una lettera del sindaco Barbieri nella quale verranno fornite le prime informazioni utili sulla fase di avvio Che cosa prevede il nuovo progetto? Il nuovo progetto di servizio di raccolta differenziata prevede la rimozione di tutti i contenitori stradali a libero accesso e la consegna a tutti i cittadini di nuovi bidoncini per rendere più efficace e puntuale il servizio di raccolta differenziata Inoltre verranno installate delle eco-isole per le utenze non residenziali e utenze non domestiche con particolari necessità Da metà novembre alle famiglie arriverà un kit, in che cosa consiste? Sì, il kit verrà distribuito dal gestore del servizio Onofaro SRL e prevede la distribuzione di sacchetti di umido e dei nuovi bidoncini per la raccolta differenziata porta a porta Quindi verrà consegnato il bidoncino per la carta e cartone, vetro e metalli umido, secco residuo e anche plastica Inoltre sarà previsto anche il servizio porta a porta per sfalci e potature ma per i grandi volumi sarà comunque possibile fare il ritiro a chiamata Nell'occasione, insieme all'attrezzatura, verrà distribuito un pieghevole contenente le istruzioni per il corretto conferimento dei rifiuti, l'eco-calendario e la tessera di riconoscimento per ciascuna utenza con la quale sarà possibile autenticarsi nel centro ambientale ed accedere ad ulteriori servizi Se al passaggio degli operatori i cittadini saranno assenti troveranno un avviso cartaceo in cui saranno indicate le modalità per poterli ricevere o ritirare Come ufficio ambiente avete organizzato una serie di incontri Quando inizieranno? Gli incontri inizieranno a partire dall'8 novembre si svolgeranno nei diversi quartieri del territorio Inoltre sarà possibile visionarli sul sito web raccolta differenziata Mondolfo Un cambiamento importante ma che alzerà il livello di qualità e di vivibilità del nostro territorio Nel 2020 sono ammontati a 191 milioni di euro Dopo i costi che la Regione Marchi ha dovuto affrontare per la gestione della pandemia 93 milioni sono arrivati dallo Stato e 98 erogati dalle casse regionali Lo ha spiegato la sezione di controllo della Corte dei Conti nel giudizio che ha sancito la parificazione del rendiconto della Regione con il via libera della Procura Tra le principali misure messe in campo rientrano l'aumento del personale sanitario il potenziamento dell'assistenza territoriale e della rete ospedaliera con l'aumento di posti letto nonché la pianificazione delle azioni per ridurre le liste d'attesa E torniamo a parlare dell'ospis dedicato alle cure palliative pediatriche perché il Movimento 5 Stelle di Fano ha presentato una mozione con la quale si impegna il Sindaco Seri e la Giunta a richiedere alla Giunta regionale di considerare come un obiettivo prioritario nella distribuzione territoriale dei servizi di rete l'individuazione della città di Fano come sede per una struttura pediatrica SPOC cioè un distaccamento presso l'ospedale Santa Croce oppure un'altra sede idonea E a Fano nasce la Pink Room uno spazio dedicato alle persone affette da patologie oncologiche in cui è possibile effettuare dei trattamenti estetici gratuiti massaggi, consigli per il trucco e acconciature da parte di estetiste specializzate Con lo slogan Accarezziamo la vita avete lanciato l'open day di domenica 24 ottobre nella sede di Anvolt a Fano Qual è il vostro obiettivo e che cos'è la Pink Room? Allora Accarezziamo la vita nasce proprio come un momento, una pausa per le donne ammalate oncologiche ma non solo per le donne Pink ma interessa anche gli uomini dove le donne potranno prendersi cura di loro attraverso le mani esperte di estetisti, parrucchieri e anche un esperto del cuoio capelluto perché quando si affronta il percorso oncologico purtroppo l'aspetto estetico ne risente notevolmente e quindi l'obiettivo è proprio quello di cercare di aiutare le donne non solo con i farmaci e non solo con gli altri supporti che diamo ma anche attraverso la cura del loro aspetto Quali sono nello specifico i servizi offerti? Ci sarà un estetista che si occuperà dell'aspetto viso, mani, corpo, riflessologia plantare poi ci sarà il parrucchiere che si occuperà del capello in senso stretto quindi consigli sulle parrucche, consigli per curare i capelli nel periodo della ricrescita e ci sarà l'esperto di cuoio capelluto perché si può andare incontro a problemi di alopecia e quindi lui cercherà di dare dei consigli utili a riguardo A che ora e dove si svolgerà l'Open Day? Allora l'Open Day si svolgerà in via Roma nella sede Amvolt di Fano, via Roma 77A dalle 10 in poi siamo lì io con altri volontari e chiunque vorrà partecipare all'inizio Ci sarà anche l'esperto Giuseppe Iarc domani al focus sul turismo organizzato dal comune di Fano per fare il punto e progettare il futuro della città insieme agli operatori del settore Filippo Pucci Ragionare sul lavoro svolto e progettare il futuro è l'obiettivo di Focus Turismo in programma domani, 23 ottobre dalle 9.30 al Teatro della Fortuna di Fano L'incontro verrà aperto dal sindaco Seri dalla sottosegretaria alle politiche del lavoro Rossella Accoto e dal presidente della regione Marche Francesco Acquaroli Poi l'assessore al turismo Etienne Lucarelli illustrerà la strategia che ha decretato un nuovo sviluppo mentre l'esperto Joseph Iarc spiegherà il percorso che il comune dovrà intraprendere per diventare una vera e propria destinazione turistica Infine ci sarà un incontro con i protagonisti del territorio con i quali è nata una sinergia per promuovere in maniera organica le bellezze e i prodotti tipici locali La partecipazione a Focus Turismo è aperta a tutti mediante prenotazione Pianificare e creare le fondamenta è ovviamente fondamentale lo dice la stessa parola e quindi noi l'abbiamo fatto abbiamo bisogno di avere una visione di città sarà un momento dopo gli stati generali del turismo dove dovremo capire cosa abbiamo fatto fino ad oggi e cosa dobbiamo realizzare e questo momento lo faremo tutti gli anni perché il lavoro non è soltanto quella della strategia quello di creare le infrastrutture ma anche che l'amministrazione insieme agli operatori del turismo il mondo del ricettivo gli stabilimenti balneari e insieme a tutto il mondo degli eventi lavorino insieme con la stessa mentalità con la stessa cultura lanciando gli stessi messaggi per far crescere la nostra città quindi questo è quello che vogliamo fare lo faremo qui al Teatro della Fortuna nel luogo più bello della cultura della nostra città e potremo ritrovarci insieme per fare in modo che anche lo scambio di opinioni e delle parole ci faccia crescere diritti e rispetto per gli animali era chiuso in un cortometraggio di 20 minuti si intitola L'aiutante di Zia Lupa l'opera realizzata da Stefania Schiaroli animalista che punta a educare i bambini all'amore per tutti gli esseri viventi Benvenuti in questa storia bambini e bambine che sarete gli adulti di domani e benvenuti a voi, adulti di oggi spero che questa favola reale vi faccia innamorare degli animali e che vi insegni a rispettarli e ad amarli sempre La passione di una vita racchiusa in un cortometraggio per sensibilizzare su diritti e dignità degli animali si chiama L'aiutante di Zia Lupa ed è il lavoro realizzato dall'insegnante Stefania Schiaroli, animalista fanese che con una sorta di breve film della durata di 20 minuti tra recitazione, fumetti e tanto altro punta ad arrivare al cuore dei più piccoli per educarli all'amore verso tutti gli animali Una vera e propria missione quella di Stefania che nella sua storia interamente realizzata e scritta da lei interpreta proprio il ruolo di Zia Lupa al suo fianco la sua inseparabile cagnolina Marti Schiaroli ed il nipotino Alan Simoncini insieme si batteranno per aiutare gli animali dando loro voce per far sì che tutte le creature siano amate e rispettate questo cortometraggio, ha affermato Stefania nasce come un mio sogno ed ha per lei anche un profondo valore affettivo Questo cortometraggio l'ho dedicato alla mia mamma che ho perso a febbraio di quest'anno e sono sicura che anche dal cielo mi è stata vicino quel giorno portandomi e regalandomi il sole che è stato un elemento determinante della riuscita della presentazione Come Gandhi diceva che la civiltà di un popolo si vede dal modo in cui trattano gli animali in cui si tratta gli animali io vi dico cercate dentro di voi il vostro sogno più vero e siate quel sogno per cambiare il mondo il mio sogno appunto è aiutare gli animali e tutti gli esseri più deboli per i loro diritti perché anche loro hanno i loro diritti sono esseri sensienti sono esseri estremamente sensibili lo dice la parola stessa l'anima è lì e quindi invito tutti a farsi un esame di coscienza a rendersi conto di quello che accade nel mondo e a fare un piccolo passo, un piccolo gesto per aiutarli come tutte le altre creature Alan, lontano dal bosco avanza all'interno della campagna raggiunta all'improvviso vede un uomo che sbraita impugnando un fucile davanti a un capanno il capanno di quell'uomo cattivo da lui nascosto improvvisamente si lancia in una corsa si dirige verso l'uomo ma prima che possa raggiungerlo il lupo gli si pone davanti a volerlo proteggere insieme Alan, zia lupa, Marty e il lupo si lanciano contro l'uomo momento indefinito alla presentazione del cortometraggio che si è tenuta lo scorso fine settimana alla bocciofila La Combattente a Fano erano presenti circa 150 persone tra cui i bambini e le bambine della scuola gentile in cui Stefani ha insegnato ed il sindaco di Fano Massimo Seri assieme all'assessorato all'ecologia urbana nelle persone di Samuele Mascarin ed Emanuela Giovannelli il cortometraggio sarà presto in rete e l'obiettivo dell'insegnante è quello di portarlo anche nelle scuole a dare voce alle parole d'amore scritte da Stefania è stata Anna Ritaioni nella presentazione abbiamo parlato di veganismo, antispecismo e di tanti altri argomenti ma ci tengo a sottolineare che anche se io sono vegetariana perché dopo aver visto quello che accade negli allevamenti intensivi non sono più riuscita a mangiare né carne né pesce né prodotti derivanti da animali io non dico che le persone debbano essere vegetariane ognuno è libero di scegliere però vi dico, vi prego cercate di stare attenti nel non prendere prodotti provenienti dall'allevamento intensivo perché quello che accade lì dentro è innarrabile sono delle crudeltà che nel 2021 non sono più tellorabili quindi bisogna avere consapevolezza di quello che accade e un'altra cosa importante che voglio dire è che quando ami, ami troppe persone dicono aiuti gli animali e gli altri innanzitutto chi mi conosce sa che io aiuto e amo tutti ma amare gli animali non esclude aiutare le persone perché quando ami quando c'è l'amore nel cuore aiuti tutti ami tutti bambini mi rivolgo soprattutto a voi che siete il futuro rispettate e amate gli animali perché sono amore vi auguro un grande in bocca al luco per fare la differenza e migliorare questo mondo Domenica alle 10.30 al Teatro Antonio Conti di Acqualagna si alza il sipario sulla 56esima Fiera Nazionale del Tartufo Bianco durante la cerimonia verranno premiate due aziende tra i fondatori dell'evento e la famiglia di Vincenzo Urbinati storico tartufaio di Acqualagna scomparso recentemente poi Marco Pierpaoli segretario generale di Confartigianato Imprese Ancone e Pesuro Urbino premierà quattro aziende che si sono distinte nel periodo della pandemia dopo il taglio del nastro apriranno gli stessi stand del tartufo fresco e verrà inaugurato il pala tartufo con il risto tartufo il nuovo spazio dei ristoranti locali con 300 posti a disposizione dei visitatori alle ore 18 nel palcoscenico del salotto da gustare si svolgerà il primo spettacolo ai fornelli con il cooking show di Alessandro Negrini Due Stelle Michelin e vi ricordo che il lunedì prossimo torna in diretta dopo il telegiornale Primo Cittadino e l'ospite sarà il sindaco di Mondolfo Nicola Barbieri tra poco invece trasmetteremo un documentario su Don Achille che è stato curato dallo studio del Bianco di Fano io vi ringrazio per aver seguito il nostro telegiornale e buon fine settimana a tutti voi a tutti i nostri spettacoli